buonasera a tutti sono luigio naracus e perfettamente su dramo z docam battle versione jap con questo docam debate riguardo la nuova modalità di gioco a quanto parlo non ho capito che il quinto anniversario è stata una piattola che non hanno messo nulla di nuovo perché gli equip sono falliti appena usciti non c'è modo oggi di far male decentemente gli equip non aggiungono un emerito nulla al gioco se non variazioni nella pt e roba simile con questa nuova modalità chiamata chain battle non abbiamo ancora un nome preciso preciso doveva chiamarsi explosive chain battle che si può giocare con una battle energy quindi un'altra tipologia di stamina e tutto allora esiste un video online su reddit che io sto provando a scaricare far partire vedere visionare oltre la prima volta che l'ho visto non parte non parte per niente è morto come video quindi non riesco a far rivedere chissà quali informazioni durante questa modalità ma le possiamo parlare allora dovrebbe uscire durante i prossimi festeggiamenti con la prossima versione di gioco si gioca come dicevo con la battle energy non sappiamo di preciso quante battle energy avremo se ne ricarica una al giorno si può recuperare una volta al giorno con le dragon stone e altro ci sono sfide casuali ogni giorno si ricarica nel tempo e non si sa bene o male ancora molto sappiamo unicamente che si tratta di una coppa passiva è un po complicato arriverà una guida inizio mese quando uscirà modalità adesso prendete per buono quello che vi spiego si entra nella modalità come fosse il battlefield ok si scelgono 10 pg 10 pg 10 extreme 10 super che si possono dare a tutti gli altri giocatori quindi avrai 10 super 10 extreme che fai vedere agli altri giocatori dovrei scegliere dei pg tra quelli che sono tutti gli altri amici che si colleghino al tuo pg si chiamano infatti connector per spiegarla abbastanza più semplice ragazzi bisognerà scegliere dei pg che c'entrino qualcosa col vostro pg principale e si dovrà affrontare il nemico con tre tra gli otto pg che appaiono totalmente random quindi per cui preparatevi alle rotture di palle delle persone che mettono pg del cazzo per far perdere gli altri mettendo pg con più caratteristiche quindi attributo allineamento categorie link uguali al vostro pg il danno aumenta nel famoso video cui parlavo black goku zamasu che penso fosse full ability arrivava 44 milioni il danno aumenta anche se scegliete se scegliete molto velocemente pg quindi se andate molto veloci se il time raggiunge lo zero verranno scelti a random se passa metà del tempo ve lo dirà loro quali sono i pg migliori e si otterranno delle ricompense in base ai danni effettuati oltre il fatto che ci sarà un ranking ci sarà quindi una classifica un tipo il nuovo torneo detto come va detto cosa penso di questa modalità si capisce davvero poco è una modalità molto veloce pare perché comunque se tutto qua come l'hanno spiegato o aspettate è partito il video quindi riuscirò a mettervelo riuscirò a mettervelo qua sotto il video senza audio senza nulla ma mentre parlo dovreste star vedendo quindi riusciamo a parlarne il primo nemico guarda caso sarà il caro broli come ti devi vedere qua c'è una battaglia che inizia e successivamente c'è la selezione come vi dicevo dei vari pg non si è capito ancora molto riguardo questa modalità quello che sappiamo è che le ricompense saranno queste casse che non sono altro che un altro genere di summon in cui possono uscire vari ed eventuali oggetti carina carina non penso sia quello che aiuterà dokkan a superare questi cinque anni di vecchiaia perché ragazzi dokkan è un mobaggi di cinque anni fa e si vede basti vedere i mobaggi attuali del momento come sono è molto fermo sulle sue cose non mette molte innovazioni quindi bisognerà un attimino vedere questa modalità cosa farà io vi lascio quindi qua in ripetizione mentre parlo questo video di un minuto e mezzo perché per adesso vi posso dare solo le mie mi sembra molto carina ma molto casuale perché se le persone che la giocano non sanno come cavolo fare roviano il gioco agli altri e questo è un po' un problema a mio avviso perché il fatto che vengano messi a caso pg super extreme presi da tutti gli amici vuol dire che o avete degli amici intelligenti che sanno giocare non rompono le palle oppure vi beccate i saibaman gli amcha la roba è inutile le sfide cambieranno i nemici cambieranno come bisognerà fare per ogni sfida quali sono i pg migliori un nuovo genere di video da portare quindi comunque un qualcosa in più a pensare si può resettare una volta al giorno non si sa se l'abilità influisce in processo di avere il pg non si sa quali sono le caratteristiche oltre alle skill che influiscono di preciso quindi ragazzi non ci resta che aspettare inizio maggio con il prossimo probabile dual col dual di fine mese e vedere che ci porterà sono molto interessato spero non faccia la fine del battlefield 1.0 perché il battlefield 1.0 ma anche il 2.0 per quanto fossero complessi e altro li preferivo all'attuale battlefield perché l'attuale battlefield non è altro che il solito d'Occan cioè quella è una modalità in più era difficile sì era tosta finirla sì ma era originale cavolo che poi la gente non piaceva perché la gente voleva vincere non gli andava di perdere chissene una qualcosa di nuovo aria fresca qualcosa che bisogna imparare a gestire no la solita cosa come Dock in ogni modalità tranne nell'eroad ormai è un premi una pallina per lanciare la special salvo raripg che devi vedere anche quante orb prendono e vinci perché purtroppo il sistema di gioco di Dockan dopo che affronti e giochi a decine di mobage vedi tanti sistemi capisci che è proprio tra i peggiori che ci sono purtroppo e questo è oggettivo ragazzi il sistema di gioco di Dockan che devi cliccare sulle palline e prendere le palline un'angra che anche perché pensando che ci sono sistemi simili cento volte più complessi e cento volte migliori in altri giochi quindi sì ci vorrebbe un po' di innovazione vediamo questa modalità cosa farà è uscita anche come uscirà nei prossimi giorni in Vegeta e Nappa LR inaspettata però si sentiva il l'odore di prossimo duo alla tema Saiyan Saga e da molto che lo aspettiamo quindi ci sta ci sta questo è un PG classico della Saiyan Saga aspettiamo il prossimo duo che probabilmente sarà Vegeta Scouter e Goku Kaioken probabilmente altrimenti potrebbe anche essere che ne so Goku è piccolo Dockan Fest 2 e dall'altra Vegeta che spero non vada a Great Tape o al massimo se mi va a Great Tape con l'Active al massimo con l'Active è un'unità carina carina ho visto però che praticamente post change è praticamente molto più scarsa di con il change devo ancora testarla vediamo un po' fatemi sapere voi cosa ne pensate di questa modalità vorrei darvi maggiori informazioni ma non le ho c'è davvero pochissimo da dire oltre questo video che vedete noi ci vediamo appena ne saprò di più alla prossima e buona serata